Un nuovo bando regionale di supporto al terzo settore di cui abbiamo colto il grido di difficoltà. Oltre 3 milioni di ristori per riconoscere le spese avute nell'anno di emergenza, fino a 10 mila euro di contributi. Sappiamo che circoli rischiano di chiudere, non possiamo permetterlo perché sono un presidio fondamentale per la coesione sociale di tutta la comunità regionale. Servirà a sostenere le spese di affitto, utenze, costi del personale, rimborsi, spese dei volontari, igienizzazioni e anche dispositivi di protezione utilizzati per l'emergenza. Il nostro obiettivo è che queste associazioni possano essere poi protagoniste di quella che sarà la fase di ripartenza, quindi è fondamentale che oggi rimangano in piedi e questi 3 milioni e 100 speriamo che possano essere utili a questo scopo. Non saranno gli unici che mettiamo a loro disposizione perché stiamo attendendo la ripartizione dei 70 milioni di euro nazionali che metteremo di nuovo a disposizione per la quarta parte dell'Emilia Romagna al terzo settore proprio perché si possa affrontare l'emergenza e preparare la ripartenza.